E Asia Di Gregorio, studentessa del Liceo Linguistico Isabella Gonzaga di Chieti, la vincitrice della prima edizione del concorso pittorico Draw Dante, promosso dalla consulta provinciale degli studenti in collaborazione con la ONLUS History Life nell'ambito del Dante D e riservato agli istituti secondari superiori. Secondo e terzo posto per Claudia Rapposelli e Umberto Fabrizio, studenti del Liceo Artistico Nicola da Guardia Grele di Chieti e dell'Istituto Omnicomprensivo Mattioli d'Acquisto di San Salvo. Premi speciali History Life ONLUS a Paola Di Tanna e Nicole Ialongo, studentesse del Liceo Classico di Vasto e del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lanciano, Premi speciali della consulta provinciale degli studenti a Maria Sole Desideri e Marius Alexandru Kurt, studenti del Polo Liceale Mattioli di Vasto e dell'Istituto di Istruzione Superiore Umberto Pomiglio di Chieti. Presente alla cerimonia che si è svolta questa mattina in prefettura, la professoressa Maristella Fortunato dell'Ufficio Scolastico Regionale, che ha elogiato i ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa per aver saputo offrire una rilettura dell'epoca in cui ha vissuto Dante Alighieri, adattandola ad un contesto contemporaneo ricco di messaggi e spunti di riflessione. Il presidente della consulta, Giorgio Marcucci, ha sottolineato che l'iniziativa è nata nel mese di marzo, vede premiati ragazzi che si sono cimentati nel disegno e nella pittura, che dopo la didattica a distanza sono stati molto felici di potersi incontrare e ricevere i riconoscimenti. Il prefetto Armando Forgione ha invitato tutti gli studenti della provincia di Chieti a saper cogliere l'importanza di queste iniziative e della scuola e della formazione che sta offre alle future generazioni. L'esercizio è quello di guardare avanti con fiducia, forse è una frase fatta, lo so, però è una frase che racchiude in sé una prospettiva, perché oggi ai giovani manca questo, la prospettiva di questo futuro, diciamo, neanche molto lontano, il futuro più immediato, quello più prossimo. Ecco, avere una prospettiva anche di breve periodo positiva per loro può essere soltanto un incentivo in più a fare bene.